Prima volta sugli sci? Dai, va bene, iniziamo subito. Talloni in centro e poi premi indietro. Premi dietro! Guarda che si staccano gli sci poi così e cadi, eh. Adesso divarica le code degli sci allontanando i talloni. Sì, ma contemporaneamente, se no non freni. Ma raschia la neve con l'interno. Hai presente quando ti spalmi burro la mattina sulla fetta biscottata? Ecco, raschia come... raschia col coltello. Raschia con sti sci, dai! Allontana sti talloni! Non ti sedere! Braccia avanti! Ma va che i bambini di tre anni lo fanno occhi chiusi, eh. Molla ste racchette che non ti servono a niente. Butta... dammela a me! Il peso verso valle! Verso... ma come dove la va? Ma questa è la valle! Piega sto gin... Non stare rigido! Goditi questa curva! Goditela dai! No, vabbè, io ci rinuncio! Ma dai, stai tranquillo. Ho altre 20 lezioni e magari impari a stare in piedi su DC. Comunque sono a 340 euro per un'ora di lezione. Vai a pagare dentro in scuola. Grazie, ciao!